benvenuti in un nuovo video di quadricottero news oggi prova di nuovo drone link con il mini 3 pro volo a white point e volo per mappatura fotogrammetria nella prova precedente abbiamo visto che ad un certo punto l'app è crashata adesso ho scaricato una nuova versione dell'app che è ancora in versione beta e quindi voglio provare a vedere se adesso funziona tutto drone link sta continuando a rilasciare aggiornamenti su aggiornamenti per questa app che appunto è in versione beta in questo caso sto provando la versione 4.5.1 si tratta di una delle prime applicazioni che sfrutta i mobile sdk rilasciati da dji per il mini 3 e mini 3 pro come vedete drone link ha tante possibilità applicative mappatura fotopano volo a white point rilevamento delle facciate foto di un poi dalle prospettive dei punti cardinali possibilità di farlo volare a specifiche coordinate gps voli ricorrenti per l'avanzamento lavori ad esempio di un cantiere si programma una missione su un cantiere poi si richiama nel corso del tempo il drone scatterà anche foto a 360 gradi poi c'è la possibilità di programmare con elementi multipli quindi abbinando white point mappatura orbit via dicendo possibilità di fare fare al drone un volo a spirale intorno a un punto di interesse comunque provo il volo a white point che avevo già programmato in precedenza dove l'app era cresciata sempre tramite smartphone è possibile anche variare il piano premendo su edit plan è possibile cambiare anche da smartphone tutti i parametri del volo comprese le traiettorie poi i white point le altezze via dicendo in questo caso però a me va bene così perché ripeto esattamente quella missione che ho fatto precedentemente a questo punto tappo su play e vediamo cosa accade ed ecco che decolla si porta un attimo in hovering e poi parte per la missione a white point che ho programmato vediamo cosa accade questa volta sale in verticale fino all'altezza preimpostata e si porta al primo white point una novità di questo aggiornamento il fatto che vengono visualizzati i dati che l'app invia al drone quindi altezza velocità angolazione del gimbal camera adesso è arrivato al primo white point e quindi punta la camera verso il poi che gli ho indicato in programmazione che praticamente sono io il punto di recollo dove mi trovo io quindi per tutto il tragitto il drone deve mantenere inquadrato il poi e vediamo cosa accade ovviamente ci sono altre opzioni come fare in modo che la camera inquadri la direzione di volo e far inquadrare diversi poi insomma drone link è un software molto completo che dà tantissime possibilità in questo caso ad esempio sto facendo un video posso fare realizzare un video dove mantenendo inquadrato un punto di interesse e posso poi ricavare un video di presentazione ad esempio perché mantiene sempre inquadrato il punto da varie angolazioni con la certezza che il tutto viene eseguito bene automaticamente non lo devo fare a se avesse dovuto fare la mano avrei dovuto usare la funzione ad esempio spotlight però non è mai preciso come un movimento fatto automaticamente in questo momento ha superato il punto critico la volta precedente proprio qua l'app era cresciata e quindi avevo dovuto interrompere la missione in questo caso invece sta continuando quindi nessun crash sta funzionando tutto bene tra l'altro i point e l'ho programmati ad altezze diverse quindi il risultato finale questa prospettiva diversa più dinamica nel mio caso questa missione può essere vista come un'ottima alternativa all'orbit ecco adesso la missione è completata ed è scattato il ritorno a casa automatico come gli ho detto di fare ed ecco che si porta sulla verticale del punto home ruota leggermente e poi inizia la discesa i parametri sono quelli di default scende abbastanza veloce devo dire comunque interrompo io manualmente la discesa premendo sul tasto del radiocomando come ho fatto in questo momento e quindi ottima cosa adesso prima di provare la missione di fotogrammetria voglio verificare se i sensori evitamento ostacoli funzionano il mini 3 è rassettato con la dj fly con freno quindi quando rileva un ostacolo frena in effetti vedete che non va avanti perché i sensori frontali mi rilevano se mi sposto dovrebbe andare avanti vediamo infatti procede quindi anche se non c'è nessun segnale di allarme sull'app drone link non c'è nessuna allarme di ostacolo il drone comunque non va questo però è il pilotaggio manuale dovrebbe funzionare comunque anche durante una missione tuttavia non ho verificato se durante una missione effettivamente i sensori funzionano penso di sì ma non ne sono certo passiamo alla missione di fotogrammetria che è molto interessante perché grazie al mini 3 pro e le sue caratteristiche che gli permettono di essere impiegato anche scenari urbani senza troppe complicazioni è possibile quindi svolgere operazioni professionali fotogrammetria mappatura generazione di modelli 3d e via dicendo quindi richiamo la missione che avevo già programmato la volta scorsa ma che non ho eseguito perché appunto avevo timore che l'app cresciasse in mezzo alla missione e vediamo se funziona la missione questa a doppia griglia corta e a bassa quota perché appunto voglio tenere il drone sotto controllo in modo che in caso di problemi possa riprendere il controllo agevolmente con questo aggiornamento finalmente sono stati introdotti appunto il mini 3 pro e mini 3 sia con lo scatto a 48 megapixel sia con lo scatto normale a 12 megapixel come vediamo qua abbiamo varie possibilità a tanti droni supportati tra cui appunto mini 3 pro e mini 3 48 megapixel per entrambi oppure 12 megapixel per entrambi abbiamo anche i mavi 2 mavi care addirittura anche lo spark phantom 4 il phantom 3 e le zenmuse anafi e gli evo comunque andiamo a verificare le differenze tra una foto da 48 megapixel e una foto a 12 megapixel col filtro quad buyer iniziamo con quella da 12 megapixel andiamo a vedere il gsd e notiamo un gsd di 1,60 centimetri per pixel allora scelgo la modalità a 48 megapixel sempre a parità di parametri vediamo che raggiungiamo un gsd di 0,80 centimetri per pixel la stima è 31 foto per 4 minuti di emissione velocità massima 22 chilometri all'ora ma è un setting che si può cambiare quello della velocità massima stabilire la velocità massima importante perché più la teniamo bassa e meno effetto rolling shutter avremo quando scatta le foto in movimento se non si ferma sul punto e adesso lo verifichiamo a giudicare dal tempo di emissione il mio parere che non si fermerà sul punto se si le foto saranno prive di effetto rolling shutter però la missione sarà molto più lunga vediamo cosa accade e allora non mi resta che premere start e dare il vio alla missione satelliti agganciati sono 26 e 27 quindi dovrebbe andare abbastanza preciso anche qua abbiamo i dati che l'app indica trasmettere al drone tramite la procedura virtual stick in pratica l'app dice al radiocomando cosa deve fare quindi simula il movimento degli stick per questo si chiama virtual stick allora adesso si sta portando al primo punto di inizio della mappatura vediamo cosa succede infatti inclina il gimbal a 90 gradi verso il basso e inizia a scattare vediamo se scatta da fermo no scatta in movimento come avevo presunto e allora in questo caso bisogna stare attenti che non ci siano effetti di rolling shutter perché essendo le foto scattate in movimento se la velocità è alta potrebbero essere delle distorsioni che poi vanno a inficiare il lavoro di fotogrammetria a cura del software che sceglieremo per l'elaborazione delle strisciate fotografiche in modo da ottenere i modelli digitali comunque visto che il mini 3 ha una grande autonomia di volo è meglio settare velocità basse anche sfruttando la stima che fa drone link del tempo di missione quindi ottimizzare il tempo di missione con la durata della batteria e la velocità che più bassa è meglio è ovviamente essendo più bassa ci metterà più tempo per eseguire il lavoro però le fotografie saranno più pulite dal punto di vista delle distorsioni come si vede possiamo seguire contemporaneamente ciò che inquadra la camera del drone con il percorso che sta effettuando e ecco qua che è cresciata l'app il mini 3 però è rimasto in hovering laggiù non penso si riesca a vedere con la camera comunque è un puntino che io riesco a vedere l'app non funziona e quindi a questo punto provo a riavviare l'app e vediamo cosa succede e ricarico la missione e vediamo che adesso la missione si è caricata premo play e dovrebbe continuare dal punto in cui si è fermato infatti vediamo che ha tracciato una linea viola si porta fuori percorso quindi presumo in un punto dove può riprendere la missione da dove aveva interrotto anche se aveva interrotto dall'altra parte vediamo cosa succede dovrebbe rifare un pezzo di percorso e scattare nuovamente le foto vediamo che siamo al 18 per cento della missione però quando si è interrotta l'app era 47 per cento più o meno e quindi non ha ricominciato da capo però ha perso per strada larga parte della missione e quindi deve rifare un po le cose insomma ha un po recuperato ma non è la condizione ideale la condizione ideale è quella in cui l'app funzioni senza crash naturalmente è una versione beta quindi dobbiamo avere pazienza che queste cose vengano risolte però a mio giudizio è sulla buona strada e tra non molto se il ritmo di aggiornamenti continuerà come accaduto fino ad oggi queste cose saranno risolte in modo definitivo e l'app da versione beta sarà rilasciata in versione normale quindi in versione affidabile in effetti le beta servono proprio per sperimentare e risolvere tutti questi bug tra l'altro su questo argomento voglio salutare roberto che ieri mi ha scritto dicendo che ha acquistato l'app proprio perché c'era questa beta lui ha il mini 3 normale non pro e quindi ha visto questa beta ha deciso di comprare l'app però a lui non gli funziona e quindi si è lamentato del fatto che quando qualcuno paga qualcosa le cose dovrebbero funzionare anche una beta secondo lui dovrebbe funzionare in realtà non è proprio così perché chi usa una beta si assume tutto il rischio di provare una beta quindi malfunzionamenti anche gravi crash e via dicendo quando una versione in beta sarebbe bene considerare questi aspetti non è detto che funzioni tutto come deve funzionare altrimenti non sarebbe una beta è vero che molte beta sono funzionanti fin da subito nel mio caso ad esempio effettivamente è stata funzionante fin dal primo uso però era aveva più problemi adesso funziona meglio come vediamo e permette di fare in effetti i primi lavori di mappatura e fotogrammetria oltre che vola voi point e adesso la missione è completata e scatta la rth come avevo programmato a fine missione si può scegliere di fare stare in hovering il drone di non farlo andare verso verso casa diciamo così ed eccolo quindi che sta tornando tutto a parte questo crash comunque ha ripreso la missione adesso vedremo la qualità delle foto che ha scattato eccolo che ritorna come al solito sulla verticale e poi scende vediamo a che velocità scende ho lasciato i parametri di default e gli stessi nel volo a why point voglio vedere se alla fine della discesa rallenta da solo oppure no perché prima ho interrotto io adesso voglio tenerlo un po di più per vedere se rallenta eccolo che scende vediamo ha rallentato in effetti nell'ultimo tratto rallenta adesso interrompo io perché non voglio che atterri sulle pietre e quindi tutto a posto nonostante il crash la missione è stata comunque completata quindi un ottimo miglioramento aspettando che tutti i bug vengono risolti ed ecco la strisciata fotografica che ha memorizzato sulla sd card interna noto però che le foto non sono da 48 megapixel ma sono da poco più di 9 megapixel cosa stranissima questa è una delle foto scattate durante la missione ingrandisco per capire se c'è qualche effetto strano sinceramente difficile con questa foto capirlo è una foto comunque da poco più di 9 megapixel quando invece avrebbe dovuto essere di 48 megapixel o nella peggiore dell'ipotesi da 12 megapixel ma in questo momento mi viene in mente che probabilmente è stata scattata a 16 noni e quindi sappiamo che a 16 noni la risoluzione si abbassa probabilmente devo impostare i 4 terzi sull'app dji fly però a questo punto perché non ricordo di aver visto questo setting su drone link riproverò con la prossima versione beta e magari proverò anche a fare un'elaborazione fotogrammetica con un software apposito vedremo quale per il momento vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti questo drone assolutamente top e con queste funzionalità appunto per i voli professionali soprattutto in scenari urbani dove le normative sono più stringenti iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e ci vediamo con il prossimo video su quadri 4 news ciao a tutti e buona continuazione